Gentili telespettatori, buona giornata. Cosa succede dalle parti di Trieste che sugli alberi nei boschi mettono delle fotocamere, un po' come se fu il principio dell'autovelox, ma neanche tu passi di lì e automaticamente quando questa telecamera rileva la presenza di movimento ti fa una foto. Ecco, 65 telecamere già consegnate alle forze dell'ordine per sorvegliare la frontiera con la Slovenia dove ci sono dei flussi di migranti illegali che entrano in Italia. L'assessore dice che vanno chiamate fotocamere ad attivazione automatica. Va bene, insomma, qualcuno le ha chiamate le fototrappole. Allora, due interrogazioni in Parlamento mi dicono che bisogna valutare il rispetto dei diritti. Allora, parliamoci chiaro. Fototrappole. È come dire io metto un antifurto per evitare che mi rubano in casa e qualcuno ti dice ma è corretto mettere un antifurto? È rispettoso per i diritti? Oppure, ancora più semplice, voi mettete delle telecamere fuori di casa e da sinistra vi dicono valutare il rispetto dei diritti. Perché metti delle telecamere? Vuoi riprendere? Perché io ho delle telecamere qui fuori casa, ne ho tre. Le telecamere rilevano automaticamente il movimento e fanno delle foto. Io poi posso andare a rivedere magari passa una colomba e la telecamera fa le foto alla colomba perché rileva il movimento. Io posso poi andare a rivedere queste immagini e dire ah guarda, c'è stato un movimento alle 3.40 del mattino, che cos'era? Vado a vedere ed è una colomba. Ecco, immaginatevi che qualcuno ti venga a casa a dire ma tu che fai? Perché le mie telecamere riprendono anche quello che passa sulla strada. Se passa una macchina di notte la telecamera fa la foto perché rileva il movimento. Immaginatevi che da sinistra qualcuno venga a dirti bisogna valutare il rispetto dei diritti perché tu stai fotografando una macchina che passa con orario, modello, targa, la telecamera è anche buona quindi riprende tutto quindi tu stai interferendo con i rispetti, con i diritti di altri perché uno passa e tu stai fotografando uno che passa. Ok, qui naturalmente questi alberi con attaccata la telecamera potrebbero fotografare uno che va a funghi. Dice ha fotografato uno che va a funghi, la moglie non lo sapeva che andava a funghi diceva che andava a lavorare invece andava a funghi. Quindi valutare il rispetto dei diritti, il diritto di una persona di andare a funghi e non essere fotografato dalle autorità. Però con questo tipo di logica non vai molto lontano nel senso che vengono messe queste 65 telecamere per fotografare quelli che entrano illegalmente in Italia. Illegalmente significa contro la legge quindi se tu metti sul confine delle macchine fotografiche che fotografano immediatamente, passano le informazioni alla centrale operativa e dicono guardate qui c'è la probabilità che questa sia una persona entrata illega magari uno che andava a funghi, però molto probabile che sia un clandestino che stia entrando in Italia e dice guarda questa è la foto di uno che è entrato in Italia magari lo troviamo, magari no, però perlomeno abbiamo una foto e con la foto magari si vede un gruppo di 50 persone che entrano dal punto X, da quell'albero X e tu puoi mandare la polizia in quella zona per cercare di fermare queste persone. Ecco, quindi le telecamere, le 65 prime telecamere hanno questo scopo della difesa dei confini dall'immigrazione illegale però voi sapete che poi arriva sempre la sinistra a dire ma bisogna valutare se tu stai rispettando i diritti delle persone. È un po' come se a casa tua, come dicevo prima, metti le telecamere arriva uno che ti scavalca al cancello tu gli fai una fotografia con la telecamera tu sei al lavoro, riesci col cellulare a vedere che qualcuno ti sta entrando in casa chiami la polizia è un po' la teoria è questa e pensate un po' se qualcuno ti dice come tu fai la fotografia al ladro che ti entra in casa ma hai valutato il rispetto dei diritti della persona cioè la persona scavalca per entrare a casa tua e tu gli fai la foto senza aver chiesto il permesso insomma a volte io credo che chi si oppone a queste cose farebbe anche bene a non dire niente parliamo di questa iniziativa delle 65 telecamere nella regione Friuli-Venezia-Giulia telecamere acquistate per sollevrigliare i confini con la Slovenia lo scopo, dice Pierpaolo Roberti assessore regionale alle autonomie locali funzione pubblica, sicurezza e immigrazione questa è la sua carica parla di controllo di un territorio quello del Carso Triestino facilmente penetrabile dai boschi le telecamere saranno strumenti per individuare spostare e rintracciare i flussi di migranti e poter svolgere indagini contro i passeur cioè quelli che facilitano, in altri stati li chiamano in un altro modo sono quelli che ti fanno attraversare il confine perché conoscono i sentieri e le strade lo stesso Roberti in passato le aveva definite le fototrappole e ora scandisce la definizione che compare sulla delibera quelle di fotocamera d'attivazione automatica che se la dici così è meno scandalistica naturalmente lo stesso assessore le aveva chiamate fototrappole e oggi i giornali dicono ha messo le fototrappole allora anche se in ritardo l'assessore dice ma no, chiamiamo le fotocamere d'attivazione automatica che fa meno scandalo questo magari dovevi pensarlo la prima volta che hai detto fototrappole perché io ho proprio letto un articolo le fototrappole nel Friuli Venezia Giulia ecco come dire, buona la prima ecco il concetto è sempre quello un muro tecnologico sempre per utilizzare le parole di questo assessore che parlava di fototrappole e muro tecnologico questa settimana gli occhi elettronici ne hanno scritto domenica il gazzettino e il messaggero del Veneto e il piccolo saranno consegnati alle forze dell'ordine di Trieste saranno 50 quelle distribuite dal capoluogo 20 alla questura 10 al comando provinciale dei carabinieri 10 a quello della guardia di finanza e altre resteranno alla polizia locale le 15 restanti saranno consegnate alla questura di Gorizia costo 34.710 euro c'erano state delle interrogazioni parlamentari poi sono cambiate due prefetti e per questo sull'attivazione si era soprasseduto quindi avevano anche bloccato l'attivazione di queste telecamere perché non rispettano i diritti tu entri illegalmente in un paese fai una sorta di foto segnaletica e non rispetti il diritto di poter entrare illegalmente capite che è tutta una macchinazione assurda grazie a tutti arrivederci